Un omaggio al paturiere sceneggiatore argentino Omero Manzi, è quello che andrà in scena sabato e domenica al teatro Porta Catena di Salerno con lo spettacolo Omero l'Italiano. Tratt'anche di autore, poesia, amore e nostalgia, lo spettatore sarà accompagnato in un suggestivo viaggio verso le arti sorelle. Lo spettacolo è curato e diretto da Michela Chirico che nella sua regia ha cercato di unire canto, danza e parole con una peculiare attenzione verso la lingua dei segni. Un progetto realizzato in sinergia con arte e professionalità e che vedrà ad arrangiare i brani al pianoforte e alle tastiere per Domenico Di Benedetto e sotto la sua direzione artistica Francesco Langone, alla chitarra e agli arrangiamenti, Gianfranco Di Miele al basso, Lucia Romaniella al canto, Anna Lisa Vagliante, voce narrante e la stessa Michela Chirico alla danza, su coordinamento di Rosaria Sinforosa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info